Diletta Leotta e Loris Carius si sposano I due che da qualche mese sono diventati genitori di Aria, che è nata nello stesso giorno della mamma, presto convoleranno a noi Vi devo dire una cosa Vi devo dire una cosa I said yes Ho aspettato qualche mese a dirvelo perché io e Loris volevamo viverci quanto più possibile le emozioni della nascita di Aria, ha spiegato Leotta, ma ora siamo pronti I said yes Ho aspettato qualche mese a dirvelo perché io e Loris volevamo viverci quanto più possibile le emozioni della nascita di Aria, ha spiegato Leotta, ma ora siamo pronti I said yes Ho aspettato qualche mese a un turbinio di emozioni che i due neogenitori affronteranno insieme. Un turbinio di emozioni che i due neogenitori affronteranno insieme. Un turbinio di emozioni che i due neogenitori affronteranno insieme. Il post è stato commentato da Federica Pellegrini, Melissa Satta, Chiara Ferragni, tutte espresso felicitazioni per questa lietano. Da questo momento è iniziato il conto alla rovescia per il grande giorno e le domande sono già molte. Dove si sposeranno? Quando? Faranno un doppio matrimonio uno in Italia e uno in Germania? Da questo momento è iniziato il conto alla rovescia per il grande giorno e le domande sono già molte.